Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video torniamo a parlare dei Chromebook e di Chrome OS, quindi siamo pronti finalmente ad utilizzarlo sul nostro computer. Prima di tutto però voglio rispondere a due domande interessanti su questo argomento che possono servire tutti quanti. La prima domanda che mi avete fatto è ma quanto spazio occupa tutto questo Chromebook all'interno del mio PC reale? E la seconda è simile e collegata. Lo voglio togliere questo Chromebook perché l'ho provato visto che non mi piace. Come faccio senza lasciare traccia all'interno del mio computer? Quindi come faccio a toglierlo senza lasciare dello spazio occupato perché altrimenti non mi piacerebbe? Allora andiamo a vedere questa cosa. Quando noi abbiamo installato il nostro Chromebook, questo Chrome OS all'interno del nostro computer, abbiamo installato due cose. il simulatore di macchina virtuale, quindi il software di supporto, che è questo VMware e quindi questo ha un peso e quindi occupa spazio nel nostro computer e poi abbiamo installato il Chromebook, vero e proprio Chrome OS nel computer e anche quello occupa spazio. Allora cominciamo da VMware. Quanto spazio occupa nel mio computer? Andiamo a vedere. Vado in Esplora File, vado in questo PC, vado nel disco C del mio computer, qui devo andare dove l'ho installato. Questo è il percorso standard, quindi se hai seguito le mie istruzioni e non hai fatto niente di diverso, lo trovi dove lo trovo io e allo stesso modo se invece lo hai messo in un posto diverso, dato che lo hai fatto tu, sai anche dov'è. Comunque nel percorso standard è dentro questo PC, disco locale C, disco C e poi programmi x86. Eccolo qua. Qui trovo questo VMware. Tasto destro del mouse, proprietà, quindi tasto destro del mouse su quell'icona, proprietà e vediamo che lo spazio occupato nel mio computer, ma sarà così anche nel tuo, è 901 MB, all'incirca un gigabyte, un gigabyte scarso. Ok, quindi questo software occupa quello spazio lì. Poi vedremo come toglierlo e come guadagnare quello spazio di nuovo nel nostro computer. Poi abbiamo installato anche il Chrome OS, quindi il sistema operativo Chrome. Dove è andato a finire quello? Quello, se non abbiamo cambiato percorso e quindi se abbiamo lasciato fare al computer, lo troviamo dentro Explora File, di nuovo, Documenti, questa volta, e Virtual Machine. Lo troviamo dentro qua. Tasto destro, proprietà, e vediamo che occupa circa 5,57 GB. Per cui all'incirca 6 GB è lo spazio occupato da questo sistema operativo all'interno del nostro computer. Ok, abbiamo risposto a questa domanda. Come faccio a toglierlo? Allora, attenzione, perché questa è una cosa particolare. Qualcuno che lo ha già tolto e che mi ha scritto ha detto Senti, io ho cancellato VMware, però nel mio computer c'è ancora spazio occupato più di quello che dovrebbe, secondo me. Come mai? Perché non dobbiamo togliere VMware, dobbiamo anche eliminare la macchina virtuale. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo aprire VMware, il software vero e proprio, e cancellare la macchina virtuale dal suo interno. Dopo dobbiamo disinstallare il software. Ora lo facciamo, quindi la mia macchina virtuale si è aperta. Eccola qua, qui trovo Chrome OS. Qui dovrei andare a cancellare questa macchina, quindi fare tasto destro del mouse. Intanto chiudo queste cose che sono apparse, eccomi qua. Tasto destro del mouse qui sopra e poi dire Delete from disk. Cancella dal disco. Lo premo tanto per vedere perché mi chiede ancora qualcosa. E qui mi chiede, guarda che io vado a cancellare la macchina virtuale, dal tuo disco in maniera permanente. La cancello. Questo libera i 5 GB che abbiamo visto di spazio occupati dal Chrome OS. E quindi pulisce. Ora dico di no perché la voglio tenere. Se invece io disinstallo solo VMWare, quindi se io vado, lo chiudo, se io vado qui in installazione applicazioni, installazione applicazioni, come si fa solitamente con un qualsiasi programma, vado a cercare VMWare, vediamo se lo trovo, eccolo qui, e lo disinstallo, vabbè, faccio modifiche e disinstalla, vediamo se faccio modifica, poi mi dirà anche se voglio disinstallarlo, next, vediamo, change, remove, eccolo qua, remove, lo facciamo, dai, lo tolgo, scelgo remove perché tolgo VMWare dal mio computer. Remove, e dico, vabbè, tira via tutto, e dico next, remove, e questo software viene tolto dal mio computer. Però lo tolgo senza aver cancellato la macchina virtuale al suo interno, devo dire di sì che confermo, quindi tolgo solo una parte, perché questo toglie solo il software di macchina virtuale, non mi toglie il Chrome OS che continuerà a occupare spazio all'interno del mio computer. Quindi adesso aspettiamo che abbia finito, poi andiamo a risolvere la situazione. Diamogli un istante... Ok, fatto, è finito, dico finish, chiudo tutto, e adesso per guadagnare ancora spazio devo andare in Explorer File, devo andare in Documenti, e devo togliere Virtual Machine, perché questa occupa ancora 5,57 GB. Questa va cancellata. Tasto destro, elimina, e adesso sparisce anche Chrome OS dal mio computer guadagnando spazio. Devo vuotare il cestino, svuota il cestino, sì, questa icona la posso buttare via. Se vado ora in Explorer File, disco C, no, questo PC, disco locale C, programmi X86, questo VMware è vuoto, posso andare a cliccarci, è tutto vuoto, quindi non occupa più spazio, posso anche tirarlo via. tasto destro, elimina, ok, vuoto il cestino e sono a posto. Tasto destro, svuota il cestino, dico di sì, e ho riguadagnato tutto lo spazio all'interno del mio computer, il mio computer è tornato come prima. Ok, adesso riorganizzo il tutto e diamo un'occhiata al nostro sistema operativo, perché vogliamo fare qualcosa con questo Chrome OS. Allora, siamo pronti. Riparto con VMware. Apro il software, quindi accendiamo il nostro computer Chrome OS, il nostro Chromebook. Premo su Chrome OS e ora vado a dire Play Virtual Machine. Accendila e fammi usare questa macchina virtuale. Eccolo qua. Questo è l'aggiornamento che era uscito anche prima. Questo è un aggiornamento. Mi dice, guarda, se vuoi scaricalo. No, lasciami stare. Adesso gli dico, ricordamelo più tardi. Voglio usarlo senza fare cose strane. Fino a ieri funzionava, continuo ad usarlo così. Aspetto che si accenda la macchina virtuale e dopo iniziamo a fare qualche impostazione, tanto per avere preso mano sul funzionamento della macchina. Eccoci arrivati. Devo inserire la password. Quindi clicco dentro. Ok, così il mio mouse è all'interno. Scrivo la password. Devo riscriverla perché ho sbagliato. Avanti. Ed eccomi dentro. Allora, voglio ingrandire il tutto. Quindi devo uscire dall'interno di Chrome OS per cui premo Control Alt. Sai che per avere il controllo sul computer esterno devo premere Control Alt. Ecco il mio computer esterno. Vado a ingrandire a tutto schermo. La macchina virtuale così vedo tutto in grande. Bene, sono tornato dentro. Chiudo il Chrome. Eccoci qua. Allora, primi lavori da fare. Non impariamo ad usarlo adesso. Lo mettiamo un po' a posto. Quindi sistemiamo un po' l'ambiente e questo ci aiuta anche a comprendere come funziona la macchina. Allora, innanzitutto, mouse troppo veloce. Mi sono reso conto che il mouse è troppo veloce. Voglio regolarlo. Anche in questo Chrome OS ci sarà un qualcosa per andare a gestire le impostazioni. Allora, vediamo. Provo a far scorrere questa barra. Vediamo. Adoro, devo cliccarci. Far scorrere la trascina verso l'alto. Ok. La trascina verso l'alto. Cerco delle impostazioni. Eccole qua. Impostazioni. Quindi effettivamente c'è. Premo. Vediamo quelle che sono le impostazioni. È simile al cellulare. Questo Chrome OS perché è un sistema operativo che deriva da lì. Vediamo cosa posso scegliere. Personalizzazione. Dispositivo. Impostazioni. Qualcosa che ha a che fare con la tastiera. Proviamo dispositivo. Mouse. Eccolo qua. Mouse. Quindi dentro dispositivo. E qui sono andato a naso. Nel senso a logica. Ho provato a guardare. Se non era qui andavo a cercare da un'altra parte ovviamente. Trovo dentro dispositivo. Trovo mouse. Premo. E qui posso andare a regolare la velocità del mouse. Allora. Non è tanto veloce. Ma a me da fastidio. Quindi tiro indietro la velocità del mouse. E mi sembra che si sia normalizzata. Perfetto. Quindi basta che io chiuda adesso. E sono a posto. Oh. Il mio mouse funziona meglio. Non ho guardato se potevo. Ingrandirlo. Va. Torniamo là. Quindi vado a prendere la barra. Faccio scorrere con la rotella. Trovo le impostazioni. Vado di nuovo su dispositivo. Dunque dispositivo. Mouse. Sempre qua dentro. Velocità del mouse. Inverti. Pulsante principale del mouse. Attiva l'accelerazione del mouse. No. Scorrimento invertito. No. Non ci sono dimensioni. Quindi in questa schermata no. Magari non si possono proprio ingrandire. Ma se dovesse guardare potrebbe essere anche in personalizzazione. Provo a premere. Vediamo cosa abbiamo. Modifica l'immagine dell'account predefinito. Sfondo. Motore di ricerca. No. Anche qui non c'è. C'è anche un avanzate che potrei premere. Andare a guardare che cosa c'è dentro. Fuso orario. Eccetera. Eccetera. Allora. Usciamo fuori perché voglio fare qualcosa d'altro. E partire da zero. Ok. Il mouse è a posto. Quello che non mi piace tanto è lo sfondo del desktop. Non mi piace. Nel computer normale. In Windows. Tra virgolette. Negli altri computer. Col tasto destro del mouse. Vado a fare questa impostazione. Sarà così anche qui. Tasto destro del mouse. Vediamo. Imposta sfondo. Sì. Possiamo farlo. Vediamo che sfondo abbiamo a disposizione. Le mie immagini. Oppure. E basta. Non c'è nient'altro. Solo questo. Ah ok. Allora. Ho cliccato sulle mie immagini. Sono uscite queste. E vediamo un po'. Natura. Città. Elemento. Qui ci sono varie. Varie categorie. Posso andare a scegliere qualcosa. Facendo scorrere. Vedo. Allora. Natura. Forse preferisco natura. O città. Anche vediamo. Metto questo. Premo. Anche la strada non è male. Ma premo questo. Ed ecco che ho cambiato lo sfondo al mio desktop. Non male. Questo mi piace. Desktop pulito. Altra cosa che mi piace. E ci siamo. Quindi il mio computer funziona e siamo a posto. L'orario qui mi dà US. Questo US sembra un orario americano. Ora io non so neanche che ore sono qui da noi. Sono le 9.50. No. L'orario è giusto. Però questo US cosa sarà? In uso tastiera USA. Tastiera americana. No. Vogliamo la tastiera italiana. Quindi andiamo a cercare le impostazioni. Faccio scorrere. Impostazioni. Allora. Dispositivo. Tastiera. Questo l'avevo visto prima. E cerchiamo quella italiana. Vediamo se c'è un'impostazione da qualche parte qui. Allora. Qua non vedo niente. Se mi metto gli occhiali magari vedo di più. Non vedo niente che mi dica qualcosa sulla tastiera. Quindi vado fuori e provo da qua. Qui dove c'è US vado a premere. Premo. Vediamo. Tastiera US. Ecco che c'è questa freccina. E tastiera italiana. La premo. E adesso ho IT. Si vede alle mie spalle. Qui c'è IT. Quindi adesso 951. Tastiera italiana. Ci siamo. Un'altra cosa che vorrei provare a fare. Non è detto che si riesca. È ingrandire la schermata. Ok. Questo Chrome OS ha preso questa schermata qui. ma io ho un monitor molto più grande e non riesco a vederlo un po' più in grande. Proviamoci. Allora. Ho visto le impostazioni da qua. Secondo me. Quelle che potrebbero essere le impostazioni. Prendo sulla barra delle applicazioni. Faccio scorrere. Vado dentro impostazioni. E qui in dispositivo. Avevo visto un display. Ok. Premo su display. E vediamo che ci sono le impostazioni. Allora 1024x768. Questa è la dimensione dello schermo attuale. Io dovrei conoscere la dimensione del mio schermo vero per poter andare a regolarlo. Allora. Per fare questo voglio andare sul mio computer. Quindi tornare nel mio Windows e leggere le dimensioni dello schermo. Per uscire dal Chrome OS e dalla macchina virtuale devo premere CTRL ALT. Premo CTRL ALT. Eccomi qua. Ora posso muovermi. Vado a rimpicciolire lo schermo da qui. Premo. Torno sul computer normale. Sul mio Windows. Tasto destro del mouse. Scelgo impostazioni schermo. E ora mi viene detto da qualche parte se faccio scorrere qual è la dimensione. Allora il mio schermo è 1920x1080. Io devo regolare le dimensioni del computer virtuale così o perlomeno con numeri che stiano all'interno di 1920x1080. e tu devi fare la stessa cosa sul tuo computer, ovviamente. Allora me lo scrivo 1920x1080. Ecco che ce l'ho fatta. se io scelgo numeri più grandi parte del computer va fuori dallo schermo e non è bello, non funziona. Si può regolare diversamente. Allora 1920x1080. Chiudo tutto. Torno nella macchina virtuale. Anzi, prima ingrandisco tutto. Clicco per tornare dentro la macchina virtuale ed eccomi qua all'interno. Allora, vediamo che misure ho a disposizione. Premo qua. 1920x1080. Faccio scorrere. Allora, 1920 ci arrivo. Qui, 1920 ci siamo. Però per 1040. Non si trova. È troppo grande perché io ho 1080. Se scelgo questo, parte del computer esce dal mio schermo. Lo scelgo giusto per farti vedere che cosa succede. Premo qua. Ed eccomi qua. Dico conferma perché voglio mantenere questa impostazione. Ed eccomi qua. Quindi questo adesso è il mio Chromebook. Caspita, bello perché finalmente lo posso usare tutto in grande. Però è parte fuori dallo schermo nel senso che non ci sta tutto. Vediamo se riesco ad andare sotto. No. Non lo vedo. La barra delle applicazioni non la vedo. Adesso speriamo di riuscire a venire fuori da questa situazione. Devo riregolare lo schermo. Non riesco ad andare sulla barra. Non ce la faccio. Provo a fare così. Tasto destro. Impostazioni sfondo. Non è sufficiente. Quindi mi trovo in difficoltà adesso. Allora, CTRL ALT per uscire dalla macchina. Vado qui sopra. Torno a schermo rimpicciolito. Vediamo se da qui riesco a fare scorrere. Ok. Riesco a fare scorrere. Riesco a fare scorrere. Dov'è? Devo tirare su questo. Ho cliccato dentro. Allora, mi sono perso. Vediamo. Clicco dentro. Ecco il mio schermo. Faccio scorrere. Faccio scorrere ancora. Faccio scorrere. Faccio girare la rotella. Qui è difficile perché abbiamo sbagliato le impostazioni. Quindi è importante non sbagliare le impostazioni. Abbiamo visto. Vediamo se ci riesco in qualche maniera a trovare la voce impostazioni. Non ci riesco. Allora, faccio scorrere da qua. Impostazioni. Dov'è? La mia freccia. Eccola qua. Impostazioni. Evviva. Ce l'ho fatta. Allora. A questo punto vado a ingrandire qui. E dispositivo. Display. Evviva. Ci siamo. 1920x1440 troppo grande. Allora. Quindi io ho 1080. Quindi c'è questo. 1050x1680. Questa è la misura che sta dentro il mio schermo. Premo. Confermo. Ed eccomi. Quindi adesso ci siamo. Questo è lo schermo massimo che posso utilizzare nel mio computer in relazione alle misure del mio schermo, della mia scheda video, eccetera. Però è già un bello schermo. Quindi questo è il mio Chrome OS. Non male. Abbiamo visto un po' di cose. Quindi regolato il mouse. Regolato lo sfondo a piacere. E anche regolato le dimensioni dello schermo. Quindi adesso io posso navigare in internet. Quindi apro il mio browser internet. Ti faccio notare la grande velocità. Vado sul sito Amici di Maggiolina. www.amicidimaggiolina.it Eccomi qua. Bene. È arrivato. Bello fluido. Il sito internet. È lui. Anche se sto usando un sistema operativo diverso. Funziona. È lui. C'è tutto. Voglio vedere se posso andare su YouTube. Allora vediamo. www.youtube.com Eccolo qua. E quindi posso guardarmi i video comodamente. Vado a cercarmi As Maggiolina. As. Qui dunque blocco le notifiche. As Maggiolina. Ci siamo. Premo. Ed ecco il nostro canale. Quindi sono arrivato. Funziona. Funziona tutto. Funziona tutto. Chiudo il browser. E sono tornato nel mio computer. Ok. A questo punto ho bisogno di cominciare a capire come faccio a mettere programmi. A togliere programmi. Quanto spazio ho a disposizione su questo computer. Perché lo spazio di archiviazione di questo computer è particolare. È poco ma è particolare la gestione. Quindi quello cambia la nostra mentalità di utilizzo del computer. Perché cambia l'utilizzo del computer. Però al momento la mia esperienza è positiva. Il computer è stato veloce eccetera. Ricorda che tutte queste impostazioni che noi abbiamo fatto. Se tu vai in negozio e ne comperi uno nuovo. Non le devi fare. Perché quello non è un computer virtuale. È un computer già fatto. Già pronto. Già installato. Da essere usato. Quindi se tu comperi un Chromebook nuovo. Tu ti trovi direttamente qui. E devi semplicemente usarlo. O meglio ti trovi nel momento in cui devi dire la tua nazionalità. E il tuo account Google. Cosa che noi abbiamo fatto nel video precedente. Però devo dire che mi piace. Sono sincero. Mi piace. Non so se lo vorrò come computer personale. Perché a me piace fare tante cose col computer. Quindi deve essere versatile. Deve darmi tutte le possibilità. E che al momento solo Windows mi dà. Però trovo l'utilizzo di questo computer veramente naturale. E veloce. Per questo motivo ho scelto di provarlo. E finora l'esperienza è positiva. A questo punto lo spengo e lo riaccendo. Per vedere che sia tutto a posto. Quindi premo sull'orologio. Vado a dire spegni. Spengo il mio computer. Perché se ne va. Il mio Chromebook lo spengo. Qui dico ok. Questa schermata impareremo a conoscerla più avanti. Finito. Torno nel mio Chromebook. Dopo aver fatto tutti quanti i lavori. Quindi VMware. Premo. E vediamo se è tutto a posto. Quindi abbiamo fatto delle impostazioni. Chrome OS. Vediamo di fare play. Play virtual machine. Eccola. Si ingrandisce. Già che ci sono vado a ingrandire qui. Premo. Ok. E premo per tornare dentro. Vediamo se... Attendiamo che si sia accesa per vedere se ho il mouse. Ok. Ho tutto. Il mouse non c'è. Ho premuto troppo presto. Quindi faccio CTRL ALT. E poi premo. Ok. Adesso ci siamo. Password. Dunque. E entriamo nel nostro computer. Perfetto. Si apre direttamente su Google. Google lo chiudo. Qui ci sono delle notifiche che posso andare a leggere. Ma a me non interessano. Le chiudo con la X. Chiudi e chiudi. E ci siamo. Va bene. Allora abbiamo sistemato il nostro Chromebook pronto per essere utilizzato. Adesso abbiamo bisogno di arricchirlo con qualche programma e capire come funziona. Questi al momento sono i programmi che ci sono. Documenti. Chromium. Che è il browser internet. File. Fogli. Almeno nel mio computer. Se faccio scorrere. giro la rotella. Vedo delle altre cose. Il web store ci interesserà. Ok. Spengo il computer e siamo pronti a salutarci. Quindi premo sull'orologio. Vado su. Spegni. C'è anche un esci. E chissà cosa fa questo esci. Ma vado intanto su. Ah guarda le impostazioni. Ci sono anche le impostazioni. Qui le trovavo direttamente da qui. E c'è anche questa freccina. Se premo. Ok. Rimpicciolisce un po'. La barra. Simpatico. Simpatico. Allora vado a dire. Spegni. Ed ecco fatto. Bene. Mi auguro che il video ti sia piaciuto. Che tu possa trarre giovamento da questa esperienza. In quel caso. Qui sotto. Trovi il pollice in su. Puoi andare quindi a premerlo. Puoi iscriverti al canale. Se ancora non lo hai fatto. E attivare la campanella. Così sarai avvisato all'uscita del prossimo video. E ora puoi anche abbonarti. Al canale YouTube. Associazione Culturale Maggiolina. E vedere sempre qui su YouTube. I video della serie speciale. Riservata agli abbonati. Ci vediamo presto. Ciao.